il botto andiamo allora partiamo come volete partiamo come volete devastiamo tutto a fabio z allora z award ci ha dissato diciamo che in questo periodo si sono accumulati vari dissing di fabio z che abbiamo ignorato però ci siamo detti questa sera divertiamoci un po ma più che altro con questa volta no perché marco chitano non si tocca linea allo studio linea allo studio vediamo e che studio di donna lì vabbè difende donna lì insomma non sono contento per il semplice non sono proprio stato contento per il semplice fatto che adesso donna lì è stato preso come vittima sacrificale che significa donna lì è cattivo donna lì è malvagio donna lì è brutto mai detto né cattivo né malvagio né brutto abbiamo detto che è un criminale che lo è che lo è che ha commesso atti criminosi ha commesso dei crimini in live quindi tecnicamente lo è peraltro in una piattaforma dove uno non si possono commettere i crimini e due non si possono fare determinate cose che sono contro il regolamento cose che lui ha fatto quindi di che cazzo stiamo parlando scusate ma quale vittima ho provato anche un po a giustificarlo a comprendere alcune sue ragioni a giustificarlo no quindi brutto e cattivo no però vediamo dove va a parare difendendo donna lì però l'avvocato del diavolo è un ruolo che amo effettivamente ben sapete se non lo sapeste il ciavero podcast apre bocca qualsiasi cosa nel senso che non è necessaria la reaction loro ci fanno la reaction non è necessario il loro operato c'è il loro operato non è una ghia che lo stabilisce secondo tante cose non sono necessarie nel mondo tante cose sono superflua potremmo dire che tutto ciò che non è sostentamento cibo vestiti e un tetto sia super e non è detto che il cervello non rientri in una di queste cose e molti è diventato il sostentamento è grave come cosa però e poi c'è pure da dire che il nostro programma e scegliamo noi cosa fare e cosa non fare non è che abbiamo firmato un contratto che dobbiamo fare quello che opportuno per twitch o per un pubblico per i cazzi tua esatto semplicemente perché questo discorso non potrebbe dire bene anche l'auto opinione allora è necessaria sulla nostra opinione non necessaria in questo discorso puoi abbattere qualsiasi cosa non siano i beni primari dell'essere umano qualsiasi cosa è superflua quindi un'argomentazione vacua c'è il loro linguaggio non è necessario sapere e loro naturalmente aprono bocca beh sono un podcast vivono sugli allori altrui quindi se non parlassero degli altri non avrebbero non ci siamo arrivati a caso siamo partiti dai bassi fondi non è vaffanculo questo mi fa proprio incazzare non è come se noi ci fosse avessimo spawnato cioè fossimo spawnati in questo studio all'improvviso ma lo fanno tutti siamo fatti il culo per arriva qua ci sono 700 cloni cioè non è una dimostrazione che quello che facciamo noi poi diventato un format va un po contro quello che sta di lui per arrivare a questo punto qua sugli allori perché lui vede che stiamo qua nello studio stiamo sugli allori altrui si altrui poi tra l'altro ci siamo arrivati passo dopo passo vivendo separati vivendo insieme nella caverna a queste sub investendo non c'è caduto dal cielo in questo caso stiamo facendo una realtà poi fa ridere il fatto che parla lui di parlare degli altri è stato accaduto agli altri quando il massimo della sua valenza l'ha mostrato quando si è fisicamente accollato a qualcuno quindi sta cosa fa abbastanza ridere però anche grazie comunque delle belle parole che state scrivendo in chat apprezziamo mister flame e tanto meno simone santoro e non solo perché adesso mi sembra che abbiano dato un po troppa voce a questo ragazzo nuovo marco chitano non quindi gli danno voce no è un po come un pagliato dai voce a marco simone dai voce a marco parli 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 è finita la carica tipo la serie mia altra voce 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 danno troppa voce ma poi oltretutto lui si lamenta di live fatte sul mio canale che non è che mai ti dato voce è il tuo canale fai come cazzo le pare cazzo c'entra non c'ha proprio senso di essere uno schiavo mi ringrazio pure che mi date lo spazio qua sul canale io infatti ho sempre apprezzato ma non c'entra un cazzo in questo caso pure se fosse perché le sue lamentere sono riferite altre live sul mio quindi ragazzi un pagliativo che cazzo significa un pagliativo cioè non sai parlare in italiano che cazzo significa un pagliativo non dire una cosa del genere a lui lui si vanta di essere proprio il massimo conoscitore della lingua italiana di cosa cosa non si capisce io pensavo sai comunque non so ferratissimo al massimo quindi ho detto boh sarò io lo sono andato pure a cercare alla fine non si può applica una persona palliativo se non dice un palliativo a qualcosa che si un palliativo di qualcosa perché diciamo lo sostituisce in maniera minore è il palliativo però è quello che rispetto a che rispetto a che pensaggio che ne sai un palliativo al nostro pensato è un tampone è un tampone oligarchico o forse sto usando la parola sbagliata voce no è un po come un palliativo ragazzi un palliativo mi sembra quasi un sistema quasi oligarchico o forse sto usando la parola sbagliata non ricordo comunque non lo so oligarchico palliativo forse entrambe ma voi siete un sistema oligarchico credo l'intendesse che me lo sono andato un po a esaminare che poteva volere di che siete come il sistema oligarchico era un sistema che si usava anche in antica grecia dove piccole poche persone decidono per tutti più di tutto per cercare di prendere decisioni a livello politico per migliorare la propria condizione quindi forse l'unico modo per applicarlo ma mo addirittura siamo oligarchi cioè ma ha avuto possibilità di confrontarsi e gli abbiamo aperto le ca le porte di casa nostra o fattualmente abbiamo veramente abbracciato come un fratello il figlio al prodico nonostante avesse detto cose orribili orribili questo è fatto cose orribili che dobbiamo fare in passato a casa mia appunto quindi che dobbiamo fare di più quando si va su internet si parla sempre solo degli altri purtroppo poi andiamo a criticare barbara d'urso online a dire eh barbara d'urso maria de filippi uomini sono delle genie dell'intrattenimento noi aspiriamo a diventare come loro ma che cazzo ce ne frega no no barbara d'urso addio il male il male sono dei cazzo di maria de filippi ma ma avercene un decimo del genio proprio intrattenitivo di maria de filippi e barbara d'urso guarda a trovare proprio a creare intrattenimento dal no 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 grazie loro parlano fanno giudicano eh loro sanno e vedono tutto anche quando e dove non sono presenti ragazzi esatto proprio così infatti nelle affermazioni del cerbero se l'hanno montato a montaggio noi vedono tutto anche quando e dove non sono presenti ragazzi esatto proprio così infatti nelle affermazioni del cerbero che ho visto dalla clip perché io non guarderei il contenuto del cerebro podcast nemmeno preferirei soccombere tranquillamente di eutanasia ma non mai guardare il cerebro nemmeno in punto di morte nonostante la loro canzone dica una canzone punto di morte anche perché ascoltare simone santoro in punto di morte è davvero una sofferenza cioè abbiamo già dei gruppi italiani che cantano ascoltare simone santoro è come ascoltare più cioè i gatti che stridulano sono migliori un podcast si permette sempre appellativi frasi aggettivi su tutto e tutti ma ne escono sempre indenni chissà come mai questo è un po' il diritto in realtà abbiamo beccato denunzie querelle letterine beh da quelle siamo siamo uscite siamo usciti effettivamente puliti ma forse perché c'eravamo ragione ce l'ha consentito la legge questa è la legge cioè è il fatto ma lui sembra far credere che c'è qualcosa che ci protegge si si potete riforma la legge italiana ma magari guarda magari ad avercene se veramente avessimo una protezione saremmo veramente polli purtroppo questi due video uno è il classico del cerbero lo so vi viene da vomitare solamente a pensare al cerbero podcast lo so io ogni volta che penso a loro tre non sto mai bene perché o vuole entra però cioè vuole sentirsi male vuole non mi piacciono come persone mi piace come parlano mi piace come agiscono mi piace il forma che portano proprio mi piace la tipologia c'è peccato perché sprecano un'attitudine che potrebbe essere in qualche modo veicolata diversamente purtroppo alla gente piace il sangue piace spiega però aiutaci sono interessato perché vedi già qua nel merito dice non mi piace il modo in cui lavorano sì ma formate buono è ok però piegami non ha detto magari o cosa farebbe per migliorare diversamente sia che era il vento da una persona che ce l'ha con qualcuno cosa che ho sentito siamo tornati alle cose che diceva prima della riappacificazione stesse identiche cose cato di flame dice revi non ancora però tranquillo che quando la riceverò se mai dovessi riceverla te la pubblicherò qua pubblicamente pubblicherò anche un'altra cosa che poi vedrai come ci divertiremo tutti insieme e quando pubblicherò quella cosa lì vedrai che poi sarà fantastico per tutto il web poi vorrei sentire tutti gli altri cosa ne pensano e lì si ride comunque no revi quella cosa quella cosa quella cosa non parlo se non mi bannano una cosa misteriosa che ha su di te gianluca sì sì ho paura sto tremando hanno sviluppato un'arma segreta anti sio non è un blef anti querela soprattutto cioè in risposta alla tua querela arriva questo contenuto fantastico beh che è il momento esatto esatto quindi è una scelta ottima non in tribunale ma in live io poi mi tutelo capisci e poi lì ti devi spaventare non di me ti devi spaventare sta parlando letteralmente del nulla sta dicendo niente sta cercando di incuterci timore con qualcosa che non esiste pessimo giocatore del poker devo dire un blef abbastanza prevedibile quella cosa il web non sarà più lo stesso avete paura dovete spaventare l'avrebbe tirata fuori istantaneamente conoscendolo